Bentornati, oggi voglio tornare ad aggiornarvi sulla situazione della rotta balcanica, sulla situazione ungherese e sul flusso di migranti che dalla Turchia alla Grecia porta dritto dritto nel nord Europa. Ora per prima cosa parlerei del record assoluto per il mese di gennaio di tentativo di varcare il confine ungherese, serbo-ungherese illegalmente negli ultimi dieci giorni quindi a gennaio in sostanza più di 1200 se ne sono contati, la polizia ha contato e per quanto riguarda due episodi di assoluto rilievo per la situazione drammatica che vivono sia i clandestini sia i residenti dovrei annoverare gli incendi, due incendi alla stazione ferroviaria o meglio alla ex stazione ferroviaria di Belgrado che è stata data alle fiamme forse per i fuochi accesi dai migranti che si volevano riscaldare. Comunque una stazione, un edificio ridotto in malo modo, vetri rotti, immondizia, mobili distrutti, metterò qui sopra il video per dimostrarlo e sono addirittura rimasti feriti sei persone, sei marocchini che sono stati curati e portati in ospedale che si sono tra l'altro dovuti anche lanciare dalle finestre dato che le entrate o meglio le uscite via scale erano ostruite. L'incendio, un incendio che riguarda anche la stazione di Mogli Orconi, cioè chi segue questo canale la conosce, è un paesino, una cittadina di confine della Voivodina della Serbia del nord a 2-3 chilometri dal confine ungherese dove si ammassano centinaia se non migliaia di mirati illegali. L'incendio c'è stato venerdì, gli mirati hanno provocato l'incendio nella stazione sempre per il solito motivo del riscaldarsi, del trovare riparo dal freddo. Qui uno di loro, un siriano, afferma di voler andare in Germania dal cugino che gli ha raccontato di vivere benissimo lì, di ricevere tutto dallo Stato, ricevere gli aiuti come vitto alloggio e possibilità di studiare. Poi il giovane siriano continua sono pronto anche ad entrare in Ungheria a nuoto o a piedi se necessario. Direi di riportare anche un paio di testimonianze di due signore residenti, cittadini di Mogliarconicio, la prima è Giuliano che afferma che vivo da sola e ho paura soprattutto quando sono in gruppo. La seconda, Ilono, afferma invece che i genitori non fanno avvicinare i figli alla stazione, nella zona della stazione ferroviaria perché hanno paura che succeda qualcosa di male loro. Invece venerdì scorso sono stati arrestati tre trafficanti di esseri umani di origine rumena che trasportavano 14 clandestini dentro un furgone e sono stati arrestati ovviamente in Ungheria. I 14 migranti illegali sono stati consegnati alle autorità rumene perché un mio iscritto chiedeva perché la Romania che sono fessiche se li riprendono. No, se tu Romania fai arrivare nel confine di un altro stato illegalmente delle persone illegali, delle persone senza documenti validi, poi sei costretto in caso di arresto di questi per esempio in Ungheria di riprenderteli perché tu Romania non sei stata in grado di difendere i tuoi confini con la Serbia, da dove arrivano i clandestini e quindi la Romania dovrebbe farsi carico di rispedirli in Serbia. Qui apro una parentesi. Da domani, da lunedì, l'esercito ungherese pattuglierà il fiume Tibisco, quello della frontiera serbo-ungherese, nella frontiera sud, anche con una barca per controllare anche di notte, anche nelle zone più melmose, il confine, chiamiamolo via acqua, fluviale, come possiamo chiamarlo. Controllare quindi in maniera capillare anche la situazione sul fiume Tibisco, dato che sappiamo che molti clandestini hanno provato con i gommoncini da edicoli, gommoncini da supermercato, con i remi a passare e arrivare lì sotto alla barriera, alla doppia barriera costruita non lontano dal fiume. Per quanto riguarda invece la situazione più generale, sappiamo che i trafficanti di esseri umani stanno spingendo sempre più la tratta della Romania-Ungheria e non più quella della Serbia-Ungheria, dato che non c'è ovviamente lì la doppia barriera di filo spinato. La maggior parte di questi clandestini vengono arrestati e rispediti in Romania dalla regione Bekesh e addirittura arrivano anche dall'Algeria, dal Marocco, come sappiamo. Sulle ferrovie, vengono arrestati sulle ferrovie, ai bordi delle strade, sulle stazioni, soprattutto di notte. Uno di loro ai microfoni di Origo, che è un giornale importante ungherese che conoscerete ormai, afferma questa è l'Unione Europea, l'Ungheria dovrebbe subito aprire i confini. Ecco, si sentono sicuri di sé. Le persone in Voivodia nel nord della Serbia poi lamentano di furti quotidiani e frazioni, come nel caso del signor Tibor, che metterò qui su. Il Ministero della Difesa Ungherese ha deciso di raddoppiare il contingente militare a protezione del confine serbo-ungherese, proprio a testimonianza del record di tentativi della situazione che sta degenerando nella zona. Il capo delle operazioni militari, Gorosh Laszlo, non ha negato ulteriori aumenti di organico se necessario in futuro. Il segretario agli esteri, Major Levent, ha posto come priorità europea, o ha detto che la priorità europea dovrebbe essere quella di fermare ogni tipo di arrivo illegale in Europa di migranti. Infatti si registra il record di tentativi di ingresso illegale in Ungheria da una media circa di 200 a settimana di ottobre a dicembre, siamo arrivati a una media di 1000 a settimana, che sono circa 10 volte tanto quello che si registrava nel dicembre del 2018. Quindi i tentativi di varcare illegalmente il confine serbo-ungherese sono decuplicati in circa un anno. Il consigliere capo del Ministero dell'Interno ungherese, Boko Ondi Gheorghe, spiega anche come la composizione etnica dei migranti, ovvero la nazionalità d'origine, sia cambiata negli ultimi tempi. Fino alla metà del 2019 erano più che altro pakistani, afghani. Ora invece, questa ovviamente è una rilevazione a spanne basata sui tratti somatici, sulla carnagione e non sui documenti di cui molto molto spesso sono sprovviste queste persone. L'80% oggi si dice che sia di fatto di origine siriana. Questo anche perché in Turchia solo nel 2019 sono entrati, hanno varcato il confine, circa 500 mila, mezzo milione di siriani. Poi l'esperto in sicurezza prosegue. Se ci sarà un nuovo 2015, ricorderete la situazione drammatica, gli scontri, i media occidentali che davano della razzista all'Ungheria ogni santa ora. Se ci sarà questa situazione, se si ripeterà primavera in Stato, in una situazione simile, i tre dei vicegrad, ovvero Slovacchia, Repubblica Cieca e Polonia, aiuteranno di nuovo con contingenti, con mezzi, con strumenti, con risorse, la difesa dei confini europei e aiuteranno l'Ungheria a difendere le proprie frontiere. Ora, questo sta a dimostrare come la difesa dei confini non sia un fatto divisivo tra le nazioni, ma può essere un segno di unione per il rispetto della legalità, della legge. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se volete aiutarmi a crescere condividete il video, facciamo vedere agli italiani quello che sta succedendo nei Balcani, perché interessa anche a chi sta in Italia, quello che succede qui, quello che succede fin dalla Grecia fino alla Slovenia e al Friuli Venezia Giulia, condividete il video. Se non siete iscritti iscrivetevi, accendete la campanellina. Alla prossima!